Nella stessa Aldaira, Romario, Flavio con Sisao, palla dentro, attenzione, Ronaldo fermato, arriva anche Emission, attenzione, attenzione, il gol, il gol di Romario per il 3-3, strepitosa azione di Romario che ha rubato palla al limite, ha saltato anche Pagliuca e il gol del 3-3 al 39esimo del secondo tempo. Rivediamo, Ronaldo, Romario, Romario, si infila fra due, salta anche Pagliuca, 3-3, pareggio al 40esimo del secondo tempo di Romario per una partita che comunque verrà ricordata a lungo. Bruno, e c'è da dire che anche Cesare Maldini ha sportivamente applaudito la straordinaria prudezza del duo brasiliano. E quando ci vuole, ci vuole.